Dopo il consueto appuntamento con Chichi Ricchi di Emanuele Giordano, trasmissione che veramente ha preso piede in questa emittente televisiva, è molto seguita questa trasmissione, molte sono le segnalazioni che arrivano dai cittadini di Altamura e anche di Matera, dopo questa trasmissione, dicevo, arriviamo noi con questo nostro appuntamento storico, possiamo dire perché ormai siamo in onda da diversi anni e anche questo è molto seguito. Canale 2 c'è, c'è per davvero, c'è ancora per davvero con Arturo Castoro e Felice Grisi che ogni giorno, come sapete, si alternano in questo appuntamento quotidiano e ogni giorno c'è un ospite diverso a seconda degli argomenti. Oggi, anzi prima di cominciare volevo fare un appunto, nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto, io ho detto, ho consigliato ai telespettatori di guardare il Consiglio Comunale, la diretta del Consiglio Comunale perché sarebbe stato senz'altro più interessante rispetto all'Isola dei Famosi, credo, che cominciava proprio quella sera, insomma c'era una puntata in onda quella sera. Purtroppo devo dire che il Presidente del Consiglio Comunale e tutta l'Assise ci hanno fatto fare una cattiva figura perché il Consiglio Comunale si è interrotto prima che cominciasse l'Isola dei Famosi e quindi abbiamo fatto una figuraccia, vabbè, speriamo che non accada più, lo dico al Presidente del Consiglio. Dopo questa battuta cominciamo la nostra trasmissione e per la serie a volte ritornano, anche questa è una battuta, speriamo che l'ospite non se la prenda, ecco a voi amici telespettatori Claudio Biandolino che senz'altro molti di voi ricorderanno, conosceranno perché è impegnato politicamente, ma ha fatto tanto nella sua vita e per la serie a volte ritornano, oggi è qui con noi. Io ti ringrazio. Cosa ha fatto durante tutta questa… Fondamentalmente ho lavorato tanto e continuo a lavorare tanto perché poi alla fine Arturo mi ringrazio, innanzitutto saluto i telespettatori di Canale 2, di Canale 2 C'è, saluto te Arturo e ti ringrazio per avermi invitato. Dopo tanti anni torno a dire qualcosa che mi può, che potrebbe interessare qualche altra persona di Altamura. È convinto di questa cosa? Speriamo, diciamo, i nostri 10, 15… non è vero, io dopo continuo a impegnarmi nel lavoro, negli affetti familiari naturalmente, però poi alla fine c'è qualcosa dentro che continua ad ardere ed è la voglia di studiare, di analizzare, di capire quello che sta avvenendo nella nostra città e non solo. E quindi qualche tempo fa i soci di un'associazione che si chiama Murgia Futura, che è stata costituita per la vita anni fa, mi hanno chiesto di assumere la presidenza di questa associazione e io ho accettato Murgia Futura e io ho accettato volentieri perché ritengo che questo strumento, l'associazione Murgia Futura, che è un'associazione culturale, non è un'organizzazione politica, non ha ambizioni di alcun tipo, ma ha la voglia di studiare il nostro territorio, di analizzare quello che è accaduto, quello che sta accadendo è quello che accadrà. Per far questo c'è bisogno di studio, c'è bisogno di confronto. Quindi è nata dieci anni fa? È nata una decina di anni fa. Per opera di chi? Sempre nostra, cioè siamo i soci, saremo una quarantina di soci, però c'è stato affatto poco in questi anni. Abbiamo avuto l'idea di rilanciare, proprio perché poi come dicevo prima, ognuno di noi ha le proprie attività, ognuno di noi ha i propri affetti familiari, i propri interessi, però ci piace stare insieme e ci piace studiare, analizzare, capire quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere. Abbiamo questa, non so se è patologia Arturo, però... Questa associazione non si occupa solo di organizzare mangiate... Non l'ha mai fatta. Qualche associazione vive solo per questo, solo per organizzare mangiate. Non l'ha mai fatto e non penso che lo faremo, è chiaro che poi ci può essere... Ci mancherebbe, ci può essere, però ci vuole anche dell'altro, no? Ci può anche essere, anzi figuriamoci. Come no? Fa parte anche della vita sociale. Esatto, però noi stiamo impostando il discorso in altra maniera. voglio dire pure che questa, noi venerdì, io sono qui perché per spiegare quello che accadrà venerdì nella sala consigliare di Altamura e quello che accadrà anche nei prossimi giorni... Ma fermiamoci un attimo prima, all'associazione, chi ne fa parte? Qualche nome di, diciamo, di rilievo, tra virgolio, conosciuto? Chi ne fa parte? Ne fa parte Agostino Portoghese, che è il segretario uscente del PD e che... Però è molto attivo ed è una risorsa molto importante per questa associazione, ma non solo, c'è l'ingegnere Vincenzo Lomurno, c'è l'avvocato Pino Pignatelli, ci stanno altri ragazzi, c'è il presidente della CIA regionale Antonio Barile, ci sono alcuni soggetti autorevoli con i quali ci incontriamo e ragioniamo. analisi, capire soprattutto quello che sta accadendo, non è un simposio tra poche persone che studiano e... no, noi vogliamo iniziare a fare questo tipo di discorso confrontandoci senza steccati ideologici, partitici e quant'altro, vogliamo ragionare con tutti coloro che sono disposti a dialogare con noi, associazioni, organizzazioni, singole persone, per capire perché manca un'analisi, una riflessione seria su quello che è accaduto, perché soprattutto gli ultimi anni hanno visto uno stravolgimento della nostra città, la crisi economica ha portato dei cambiamenti molto importanti, radicali nel settore economici trainanti della nostra città, immagino immobile imbottito, che 15 anni fa vedeva impegnati 5 mila addetti, 15 anni fa vedeva impegnate 300, quasi 300 aziende in tutto il territorio, oggi sono decimate. Capire come si è trasformata, come è cambiata questa realtà, capire questi 5 mila addetti che cosa fanno ora, capire quali sono gli altri settori che oggi stanno lavorando, stanno mettendo in campo le proprie forze nel nostro territorio. Per far questo non possiamo farlo soli, dobbiamo farlo insieme ad altri e sinceramente questa cosa... Alcuni di questi hanno tentato di aprire una televisione per esempio, può essere pure, sono buttati nel settore televisivo, può anche darsi. No, questo possono essere tentato, ho detto però, altrimenti esageriamo. Hanno tentato. Io quello che voglio dire... Ognuno fa quello che può, in base alle proprie aspirazioni, alle proprie capacità. Io quello che voglio dire è che abbiamo questa necessità, poi lo facciamo anche per un altro motivo, perché ci piace. Lo facciamo perché è un passatempo che ci piace. Sì, ma quello che voglio capire, il vostro interesse è spinto anche dall'ultimo risultato elettorale, quello di Altamura o no? O non c'entra nulla? Allora, io su questo voglio essere molto chiaro Arturo. Allora, noi non vogliamo, cioè non perché siamo a partitici, a politici, noi abbiamo, ognuno di noi, ha delle radicate convinzioni politiche. Abbiamo radicate convinzioni politiche, ma questo è uno strumento diverso. Noi lo vogliamo considerare un laboratorio di idee, un laboratorio che mette a disposizione anche degli attori principali che oggi governano la città piuttosto che la provincia, piuttosto che la regione. Degli elementi, degli strumenti, per attenzione, sta accadendo questo. Quello che si può fare per Altamura, cosa si può fare per Altamura, cosa si può fare per il territorio, cosa si può fare anche per la regione Puglia. Noi li mettiamo in campo. Dopodiché c'è chi potrà cogliere la necessità di trarre qualcosa di interessante, bene, se no... Quindi uno studio in generale economico, mi pare di capire, su quello che sta accadendo. Però non è detto che non presenteremo dei libri, non è detto che non organizzeremo dei concerti, non è detto che si possa fare cose che ci piacciono. Perché lo dobbiamo fare con il piacere di fare le cose. E quando c'è il piacere le cose si fanno anche pina. Noi speriamo di fare le pina. Quindi praticamente come Presidente ora di questa associazione... Come Presidente di questa associazione... Chi? Non lo so. Io. Ah, appunto. Complimenti Presidente. Anche per capire se stavamo facendo una gaffa o meno. Agostino Portoghese invece è segretario. Agostino fa parte, noi abbiamo un consiglio direttivo fatto da sei componenti e Agostino fa parte di questo consiglio direttivo. E gli altri componenti chi sono? Sono Vincenzo Lomurno, l'ingegnere, l'avvocato Pignatelli, Michele Micunco, c'è Michele Lorusso che è stato segretario della SPICGL e Adriano Antonacci che è un trentenne molto attivo che ci sta dando anche una grossa mano. Quindi questa associazione si occuperà, si occupa già da tanti anni di ciò che accade in questa città. E oggi iniziamo a uscire, iniziamo a... Quali sono le iniziative? Allora, in particolar modo abbiamo un'iniziativa che terremo il 10 venerdì prossimo alle sei e mezza presso la sala consigliare di Altamura, con la quale iniziamo appunto quella riflessione. Cioè noi possiamo analizzare quello che sta accadendo nel nostro territorio, ma non possiamo tralasciare quello che accade nel mondo, perché oramai le cose sono correlate, quello che accade negli Stati Uniti con Donald Trump ci coinvolge. Ci coinvolge direttamente, quello che accade in Europa ci coinvolge direttamente, quello che accade nel Mediterraneo ci coinvolge, per una serie di motivi, anche per il fatto che i nostri imprenditori esportano. E quindi c'è un rapporto diretto tra, diciamo in questo caso, gli Stati Uniti e i nostri imprenditori, è diretto tra gli Stati Uniti, l'Europa, l'Italia e quindi tutti quanti noi. Il venerdì 10 noi abbiamo invitato il sottosegretario al Ministero degli Esteri, di fatto il Vice Ministro degli Esteri, perché è uno molto attivo, uno che ha rapporti internazionali importanti, è già al suo secondo mandato da sottosegretario, l'On. Enzo Amendola, che verrà ad Altamura e verrà intervistato, abbiamo chiamato Rossella Matarrise, che è la giornalista di TGR Puglia, della RAI, che intervisterà Enzo Amendola proprio su queste questioni. Donald Trump, quello che sta cadendo in Siria, l'Europa come sta cambiando e in che direzione va il mondo. Lui, un autorevole esponente che conosce, vivendo ogni giorno le politiche internazionali, ci potrà dare degli elementi importanti per capire appunto quello che sta accadendo. Ci sarà un'introduzione del Dottor Vincenzo Piglionica, che è uno dei più importanti esperti di geopolitica del nostro territorio, perché lui collabora con la Treccani, è stato autore di una trasmissione televisiva di RAI 3, sulle questioni che era condotta da Giuliano Amato, sulle questioni geopolitica, lui farà una breve introduzione per aprire il discorso, dopodiché Rossella Matarrise intervisterà Enzo Amendola, che ci dirà quello che sta accadendo. Siamo curiosi di sapere la telefonata tra Gentiloni e Trump che c'è stata settimana scorsa. Su che cosa avverteva. Siamo curiosi di capire in Europa che cosa sta accadendo dopo le spinte nazionaliste e isolazioniste. Dopo la Brexit, questo evento straordinario, perché il 2016 è stato un anno straordinario, perché? Per due elementi fondamentali. La Brexit, quindi il Regno Unito che esce dall'Unione Europea, è stato un fatto straordinario perché fino all'altro ieri i paesi chiedevano di entrare, questa volta c'è un paese che vuole uscire e che esce. Forse non è l'unico, non sarà l'unico perché abbiamo sentito che ci sarà anche altro. Noi di questo parleremo, capire come fino alla crisi economica c'era la richiesta di annessione. L'Europa non annetteva, l'Europa ammetteva stati dell'Unione dell'Europa orientale. Dopo, con la crisi economica, ci sono stati dei stravolgimenti sociali straordinari. La classe media è diventata sempre più povera, la ricchezza del mondo, ma anche della stessa Italia. Tieni conto che secondo i dati della Banca d'Italia, il 10% della popolazione italiana possiede il 50% di tutta la ricchezza italiana e il 50% possiede il 10%. Tutti questi stravolgimenti, questa divaricazione tra gente sempre più ricca e una massa sempre più povera, porta quella massa a dire ora basta, a spingersi verso le posizioni più semplicistiche, populistiche, che sono estreme. Andiamo via dall'Unione Europea, nazionalismo, isolazionismo. Di questo dobbiamo ragionare. L'Europa è come un grande condominio dove hanno messo insieme le casse di tutte le famiglie. Però poi c'è il capo condomino tedesco che dice si fa così, punto e basta. E non funziona. Però c'è la famiglia magari del carpentiere, c'è la famiglia del medico e non funziona quando poi c'è soltanto uno che comanda e gli altri devono starsi zitti. Perché poi accade appunto quello che è accaduto con la Gran Bretagna. Quindi c'è la Brexit, c'è le elezioni di Trump che ogni giorno esce un fatto strepitoso, su cui appunto vogliamo ragionare con Enzo Amendola, tenuto conto che nei prossimi mesi ci saranno tre elezioni molto importanti in Europa, in Olanda, in Francia e in Germania. Dall'estio di queste elezioni capiremo che tipo di Europa uscirà. Arturo c'è tanta carne sul fuoco. La cosa che mi fa spesso, ritornando a Trump, è possibile che c'è tutta questa gente che amasse la Clinton? Non gente che odia Trump, ma gente che ama la Clinton. C'è tutta questa gente che hanno sbagliato candidatura. C'è da capire anche la divisione dell'elettorato. Nell'America dei grattacieli, a New York, a Los Angeles, la Clinton prendeva l'80% e Trump il 20%. Nella Silicon Valley, dove stavano appunto le eccellenze, le menti, vinceva la Clinton con l'80-20%. Nell'America rurale 98-2, 90-10. Trump. Allora, capire che cosa sta accadendo. Come mai l'America di Obama, che non è 20 anni fa, è un mese fa, era l'America del multilateralismo, dell'apertura, uno che si chiama Barack Hussein Obama, di colore diventa Presidente degli Stati Uniti. E quello che vede dopo si chiama Donald Trump, che dice le cose esattamente contrarie a quelle che diceva Presidente. Secondo me, se andiamo a scavare quello che è successo in America, potrebbe accadere anche in Italia. Siamo nello stesso modo di pensare. È una rivoluzione che sta accadendo, perché la gente è stanca, lo stavamo dicendo poco fa. Questa è la verità. Allora, il tema che si pone, e qui poi viene fuori il lato politico che ci sta, ma il tema che si pone, il fronte progressista, democratico, come vogliamo chiamarlo, che cosa propone in alternativa a quelle politiche nazionalisti, isolazioniste contro l'Unione Europea? Ad oggi non propone nulla, e perde. Perde e vincono gli altri. Qual è il tema dei prossimi tempi? Proprio questo. Che cosa proporre di radicalmente diverso? Un'Europa nuova, un'Europa nuova, perché quella che ci sta oggi non è un'Europa vicina ai cittadini. Io continuo a dire che quelle tre elezioni ci potrebbero consegnare, oggi leggevo un sondaggio fatto in Germania, in cui si dice che Martin Schulz, il candidato dei socialdemocratici, ex presidente del Parlamento europeo, ha superato la Merkel nei sondaggi. Io me lo auguro, non perché sia socialdemocratico, ma mi auguro che le cose cambino soprattutto in Germania, perché chi ha condotto l'Europa in questo Stato, in questa direzione, è stato il governo tedesco che ha posto i limiti, l'austerità, ha comandato. Punto e basta. Ha fatto andare gli altri con la stessa marcia con cui andava lei, questa è la verità. Va bene, allora, per concludere rimandiamo tutto questo discorso a un appuntamento che è prossimo. Io vi invito venerdì alle 18.30 nella sala consigliare faremo questa chiacchierata. Nell'ex sala consigliare. Nell'attuale sala consigliare. Nell'attuale sala consigliare. Quindi si entra via Pasquale Casa. Faremo questa chiacchierata nemmeno molto pesante, perché c'è un'intervista, c'è la soglia Rossella Matarese che intervista, qui sarà un botto e risposta. Ci saranno anche alcuni ragazzi che si occupano di politiche, di scambi culturali, internazionali, che vorranno dirla loro. Facciamo questa chiacchierata, io vi invito a parteciparvi e... 18.30. 18.30 nella sala consigliare del Comune di Altamura. Bene, bene, bene. Successivamente, Arturo, ti costruisco questo. Poi faremo un'altra iniziativa dopo dieci giorni, però ne parliamo dopo dieci, se no creiamo confusione. Non c'è problema, noi siamo a disposizione, soprattutto per le attività culturali e sociali di questa città, Canale 2 è sempre disponibile. Io ti ringrazio. Allora, grazie a Claudio Biandorino, lo ricordiamo, presidente di questa associazione culturale che si chiama Murgia Futura. Ok, allora, appuntamento come al solito a domani per Canale 2 C'è, dopo il Tg e dopo Chichirichi, questa volta, domani, come sapete ormai, non c'è neanche bisogno di dirlo, ci sarà domani Felice Griesi al mio posto. Grazie a tutti, a risentirci, grazie a Claudio Biandorino. Grazie Arturo.